Musica Amici eccoci sempre qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè spero siate sempre con noi perché come vi avevo anticipato prima ho un ospite che davvero tenevo tantissimo che fosse qua ve la ripresento Simonetta Tregnago, presidente commissione regionale pari opportunità, benvenuta Simonetta grazie posso darti del tuo, ti chiamo presidente assolutamente del tuo presidente esatto, prima ci stavamo dando del tuo, sei bella, vivace la nostra è una chiacchierata tra amiche esatto, tra amiche e donne perché di donne proprio oggi parliamo tra il serio e il faceto perché ho anche dei video molto simpatici che rendono conto del cambiamento comunque culturale nei rapporti uomo-donna e con te oggi mi farebbe piacere parlare anche di questo però partiamo dagli argomenti più seri, non seriosi ma seri e importanti c'è tutto quello che come presidente commissione pari opportunità puoi insomma condividere con noi quello che si sta facendo in Veneto per le donne sia sul fronte del lavoro sia su quello della politica oggi insomma sei anche in veste di politico quindi questo ci fa ben sperare sul ruolo anche della donna su questo fronte e poi anche argomenti un po' più tristi se vogliamo inerenti alla violenza sulle donne e anche addirittura degli omicidi sto che state facendo molti studi anche al riguardo Sì, noi è da quando ci siamo insediate nel 2007 che stiamo portando avanti proprio questo tema della violenza contro le donne e la violenza in famiglia in modo particolare abbiamo avuto proprio un percorso prima ci siamo volute rendere conto di com'è la situazione nel nostro Veneto e non è una situazione molto felice anche per la consapevolezza che tutte le donne hanno di subire un grave torto e questo ci fa onore come regione abbiamo una certa propensione anche alla denuncia quindi chi subisce appunto violenza tende a denunciare finalmente dopo anni di silenzio esatto e lo strumento legislativo è importante le forze dell'ordine si stanno formando continuamente e anche gli operatori sanitari sono attenti proprio alle vittime di violenza e in modo particolare quest'anno vogliamo parlare di omicidi e tentati omicidi in famiglia purtroppo le cronache quasi ogni giorno ci portano alla ribalta questi casi e noi vogliamo vedere com'è la situazione nella nostra regione penso che abbiamo tutti negli occhi ancora il ricordo delle pagine dei giornali anche dell'estate scorsa che ci hanno colpito profondamente purtroppo non siamo immuni da questo fenomeno e quindi andiamo a indagare il perché e che cosa si può fare per evitarlo ecco presenterete un'indagine per uno studio presenteremo un'indagine studieremo ma penso alla fine dell'anno si andrà perché è uno studio molto approfondito sugli ultimi due anni di episodi appunto di omicidi e tentati omicidi in Veneto purtroppo le statistiche dicono che ce ne sono moltissime purtroppo sì a livello italiano almeno uno ogni due giorni almeno uno terribile pensare che mentre uno sta parlando insomma si sta consumando l'omicidio esatto e soprattutto tra le mura domestiche che è il luogo deputato alla sicurezza massima e all'interno della famiglia purtroppo il sistema famiglio che è famiglia che è decisamente da seguire ecco Simonetta tu sei investe vero di presidente delle pari opportunità dal 2007 dal 2007 se non ricordo male sì 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 e cosa hai visto dalla tua prospettiva a livello di cambiamenti cioè appena hai cominciato com'era la situazione e com'è oggi da molti anni che il ruolo della donna sta subendo un progressivo cambiamento sempre diciamo in positivo in questo periodo la consapevolezza che c'era negli anni 80 era rivolta più che altro alle problematiche del mondo del lavoro pian pianino si è allargata anche alla società al costume alla comunicazione in questo periodo stiamo molto attenti al ruolo della donna nel mondo del lavoro logicamente perché purtroppo viviamo un tempo di profonda crisi dal punto di vista economico e anche il nostro Veneto risente di questa crisi molte donne stanno perdendo il proprio posto di lavoro sono ancora penalizzate rispetto agli uomini diciamo che è una penalizzazione generale statisticamente le donne sono meno nel mondo del lavoro quindi sembrano apparentemente in meno che perdono il lavoro però ce ne sono molte stiamo perdendo delle belle professionalità che difficilmente andranno recuperate e dal punto di vista della società c'è un'evoluzione proprio del ruolo della donna nella società la donna è sempre più forte la donna è sempre più istruita la donna è sempre più indipendente e a volte l'uomo si trova un po' spiazzato davanti a questa donna che è sempre più forte diciamocelo da un lato ben venga dall'altro è vero che questo comporta un'alterazione dell'equilibrio bisognerebbe ricarare ritarare scusa i ruoli ecco questo è un argomento che mi interessa molto vorrei approfondirlo con te ci vediamo un primo video sempre che gioca un po' su questo ruolo del rapporto uomo-donna molto anche ironico vediamo il primo video poi torniamo a parlarne con Simonetta Tregnago non esistono ruoli maschili o femminili ci sono cose da fare ecco abbiamo visto è sfuggita la frase finale il punto è non esistono ruoli maschili o femminili ci sono cose da fare insieme insieme vero Simonetta forse qui si risolve il gap no? di questo cambiamento dei ruoli un po' rivoluzione anche dei ruoli se vogliamo cosa ne pensi? come non ci sono i lavori da donna e i lavori da uomo si sono concetti ormai superati superati decisamente direi che anche i ruoli all'interno della famiglia sono uguali a parte logicamente che biologicamente le donne diventano mamme ma comunque la cura dei figli la cura della casa l'attenzione alla vita comune deve essere uguale per entrambi insomma e adesso ci sono questi uomini che si mettono anche a fare le pulizie ma sono bravissimi io li ammiro qualcuno viene chiamato mammo si è anche creato un po' questa immagine del mammo quindi del papà che vada anche ai bambini ecco come se un uomo fosse meno maschio perché si occupa dei propri figli assolutamente non esiste anzi è da ammirare ecco tira fuori una sensibilità perché la forza diciamolo sta anche nel manifestare la propria sensibilità certo questo però diciamo una chiave di lettura più femminile perché gli uomini stessi un po' vecchio stampo se vogliamo trovano che l'uomo si sia un po' troppo femminilizzato a volte no Simonetta che sia diventato anche un po' debole rispetto a una donna come sottolineavi bene prima sempre più consapevole dei propri diritti qualche volta un po' troppo aggressiva ogni tanto forse sì dai un uomo forte e sicuro di sé non ha paura delle donne assolutamente anzi le ama le accudisce le segue le accompagna è loro vicino è un problema eventualmente di un uomo un po' più debole rispetto ad altri però ripeto non è un problema della donna eventualmente è un problema dell'uomo e ci sono io abito in un paesino di 3700 abitanti in Veneto in Veneto assolutamente in provincia di Verona che ha visto nascere un'associazione che si chiama il Club dei Papà sono dei papà che si ritrovano davanti alle porte insomma della scuola e vanno a prendere i propri figli mentre le loro mogli sono a casa magari che preparano il pranzo e condividono anche le gioie della paternità si scambiano esperienze organizzano feste organizzano feste anche per i propri figli da papà carino viva i papà guarda mi hai anticipato perché abbiamo proprio delle immagini simpatiche che riportano un po' questa dimensione del papà chioccia se vogliamo allora chiedo al nostro regista di mandare in onda abbiamo invertito un po' l'ordine perché dopo ti faccio vedere un altro video molto carino ma di mandare in onda il video del film L'asilo dei papà perché proprio ci calza pennello con quello che stavi dicendo con il simpaticissimo Eddie Murphy vediamoci questo video poi torniamo sempre con Simonetta Tregnago siete uomini beh cosa credevo che fosse l'asilo dei papà che magari ci fosse un uomo non soltanto uomini credevo fosse una trovata per il nome è qui il nuovo asilo sono uomini sono solo uomini che cosa scusatemi sentite noi siamo due genitori attenti e premurosi e gestiamo insieme un asilo una coppia di maniaci ecco cosa siete un momento no che ne dice di un periodo di prova gratis maniaci oh oh andiamo oddio ciao non mi c'è tanto ciao Peggy ciao Nick è tutto contento per la sua prima Nick guarda qui eh Nick no aspetta vuoi lasciare Nicky con due uomini si e che problema ci sta che sono uomini e che siamo nello medioevo come non siete per le varie opportunità e tutto lo resto Peggy andiamo ma certo che vuol dire allora un lavoro da donna non è da uomo perché da donna se la caveranno benissimo ecco davvero calzava pennello con quello che stavamo dicendo no lavori da donna lavori da uomini papà che comunque si prestano a fare un po' le chiocce ad andare a prendere i figli ad accudire una volta comunque non si vedevano questi tipi di approcci diversi noi mamme è la colpa delle mamme è la colpa delle mamme un po' di sana autoanalisi autoanalisi autocrinica quante mamme hanno tirato però su ragazzini e poi uomini un po' maschilisti abituati ad avere il piatto sempre servito serviti e riveriti serviti e riveriti vero Sionetta cosa che sicuramente non troveranno le mie nuore perché io ho due figli maschi ho insegnato a fare tutto il destino a volte sono più bravi di me per certe cose però secondo me è giusto anche la responsabilità all'interno della famiglia io dico sempre che le pari opportunità nascono all'interno della famiglia con l'esempio che danno i genitori nel rispetto l'uno dell'altro dei ruoli delle competenze però anche della condivisione della vita familiare e nell'insegnamento che danno i propri figli non ci sono differenze tra figli maschi e figli femmine e nei lavori di casa una volta purtroppo c'erano sì sì è un fattore proprio culturale in alcune famiglie ancora ci sono quando resistono magari delle mentalità un pochino vecchio stampo ancora si fa la distinzione la femmina non può uscire se non accompagnata insomma in alcune famiglie so che c'è ancora questo tipo di approccio e a volte sai è una forma di eccessiva tutela nei confronti delle figlie io capisco la prudenza però anche la consapevolezza di sé va creata nei propri figli di una forza e anche a pensare con la propria testa essere indipendenti affrontare il mondo con decisione sapersela cavare assolutamente ripeto uomini e donne bambini e bambine ragazzi e ragazze non hanno differenza certamente ci vogliono forse delle attenzioni in più ai genitori chiedo proprio di insegnare i loro figli il rispetto dell'altro brava è una cosa fondamentale vedo anche di due ragazzi di due maschi cosa c'è di più importante per il rispetto verso le proprie simili diciamo le donne di riuscire a tirare su questi ragazzi facendo capire l'importanza rispetto per la donna sono le mamme stesse a crescere assolutamente questi figli quindi tante volte bisogna fare un po' colme a colpa quando dicevamo si crescono questi ragazzi viziati a cui viene concesso tutto a volte le mamme sono un po' gelose magari di un'altra figura femminile bisogna superare queste dinamiche non è facile ma è importante io capisco che noi siamo ripeto biologicamente mamme mogli ma siamo anche figlie siamo sorelle abbiamo dei ruoli ben definiti anche all'interno della famiglia la nostra dolcezza la nostra disponibilità non vuole essere solo servitù è un servizio che si fa per i propri cari però deve essere una reciprocità nei ruoli insomma non bisogna solo dare bisogna anche sapere quello che meritiamo sì esattamente la consapevolezza di sé un po' di autostima e anche chiedere aiuto quando si è in difficoltà ecco chiudiamo allora con quest'altro video perché avevo tre contributi no? spesso le donne lavorano oggi devono anche aiutare perché c'è crisi di lavoro anche rispetto ai propri compagni devono essere pronte a portare un secondo stipendio in casa c'è bisogno magari di una mano tante volte possiamo essere stanche chiediamo al nostro compagno o al marito o al fidanzato o chi per lui di dare una mano anche in casa non c'è nulla di svilente in questo quindi ci vediamo un video simpatico un po' leggero che però rende conto molto bene anche di questo cambiamento nella società rispetto al passato vediamoci il video e poi siamo sempre qui con Simonetta Tregnago pari opportunità pari opportunità pari opportunità bella roba pari opportunità la bella roba eccoci qua con il sorriso sulle labbra perché insomma le immagini erano simpatiche no? e dicono molto la dicono lunga comunque su questi cambiamenti su come la donna è riuscita a ritagliarsi insomma anche un ruolo un po' diverso a non far sentire magari neanche svilitto il compagno nel chiedergli un aiuto insomma poi ci sono uomini più disponibili altri meno ma lì la donna può scegliere di mollarli giusto Simone? assolutamente sì siamo ancora nel libero arbitrio ecco quindi dopo se ci si tiene a volte degli uomini poco rispettosi a volte addirittura violenti ebbene insomma l'hai dimostrato ricordando prima lo studio che sta portando avanti anche la regione Veneto insomma anche lì la donna deve fare mia colpa maggior consapevolezza dei propri diritti soprattutto da parte nostra è che a volte si sopportano certe situazioni perché non avendo la possibilità economica di essere indipendenti qui scatta sempre il problema della dipendenza economica ecco allora riprendiamo il discorso molto importante anche per l'impegno che state mettendo come commissione pari opportunità su questo fronte donne e lavoro di fronte alla crisi dicevi che la situazione è ancora difficile perché le donne continuano a essere penalizzate sì sì anche perché molto spesso i contratti sono contratti a termine part time non per scelta ma per necessità e quindi il problema del lavoro è il primo problema in questo momento che spesso non permette alle donne di emanciparsi da uomini anche poco disponibili infatti noi cercheremo di fare un'azione di sensibilizzazione anche nelle categorie imprenditoriali o di altro genere proprio per dare una possibilità in più alle donne che subiscono violenza di essere indipendenti economicamente quindi di emanciparsi rispetto alle problematiche che vivono spesso di affrancarsi addirittura da uomini padroni vedo qui una popolazione di oltre 2 milioni 404 mila uomini le donne in Veneto mi sto riferendo al Veneto oggi sono più di 2 milioni e 507 mila dovremmo essere attorno al 52% continua a essere vero che le donne sono più degli uomini questo fa scattare anche poi altre dinamiche sociali per trovare il compagno insomma ho delle amiche agguerritissime però questo è un altro discorso magari affronteremo l'argomento in un'altra puntata Simonetta ecco vedo che la fascia di età maggiormente rappresentata parlo sempre del Veneto è quella compresa tra i 30 e i 49 anni in particolare dai 40 ai 44 anni ufficio statistico regionale sempre rilaborato siamo i figli degli anni 60 del boom economico in fin dei conti quindi quando l'economia va bene cresce anche la natalità e questo ci deve far pensare e quindi adesso la natalità non sta crescendo proprio per niente molto poco molto poco perché le donne proprio perché si vogliono quando si vogliono emancipare o perché si vogliono emancipare ritardano anche il momento della maternità sì è un paradosso però quando appunto le donne non lavorano fanno anche meno figli perché non hanno la possibilità economica di mantenerli sembra impossibile però è così magari c'è un senso di responsabilità però maggior una volta se facevano figli c'è un timore timore per il futuro che insomma andrebbe anche superato perché io sarà che sono tendenzialmente molto ottimista quindi credo che con un minimo di sacrificio e dedizione si riesca a superare tutto quindi un invito anche un po' di coraggio sì assolutamente fiducia nel futuro se no sto calo demografico continua no abbiamo bisogno di bambini abbiamo bisogno dei figli sono la nostra ricchezza i figli quindi figli e figlie figli e figli in generale nascono continuano a nascere più donne insomma anche non lo so sicura sì pare sempre sì che il rapporto comunque sia di una preponderanza in rosa ma questo non ci dispiace no assolutamente anche perché appunto sta portando comunque dei cambiamenti come sottolineavi bene prima vedo qui che presenterete il rapporto il lavoro delle donne in tempo di crisi nella regione Veneto in collaborazione con Veneto Lavoro che sarà presentato in una tavola rotonda la prossima estate e servirà appunto a fotografare l'occupazione femminile la situazione dell'occupazione femminile veneta anche allo scopo di comprendere quanto la crisi abbia lasciato il segno su una fascia della popolazione già di per sé più debole rispetto all'occupazione quindi questa realtà rimane noi in Veneto siamo comunque fortunati anche rispetto al resto d'Italia perché l'occupazione femminile si avvicina agli obiettivi di Lisbona che erano per il 2010 del 60% in Veneto arriviamo al 53-54% non lontanissime però c'è ancora da fare ma penso che a livello italiano siamo attorno al 33-34% quindi ci sono delle regioni che sono molto più retrate rispetto alla nostra sappiamo bene che il Veneto è un po' una locomotiva per l'economia italiana si continua ad essere così alla faccia della crisi si alla faccia della crisi poi vedo un'altra ricerca libere professioniste anche io rappresento la categoria quindi mi interessa particolarmente verifica delle pari opportunità di accesso e di attività noi abbiamo voluto indagare un pochino siccome il tema delle libere professioni è un tema che si sta ampliando sempre di più proprio perché venendo a mancare in tempi di crisi economica il lavoro dipendente diciamo le donne spesso si riciclano o si ricreano un'attività in proprio sia imprenditoriale che professionale abbiamo voluto indagare a livello di ordini professionali se sono rispettate le pari opportunità all'interno di questi ordini quindi verificare se è presente il comitato pari opportunità all'interno dell'ordine se la redditività delle professioniste è uguale a quelle dei professionisti uomini non so come sia nell'ordine dei giornalisti mi devo informare ci informeremo ecco indagate adesso abbiamo indagato quelle più largamente diffuse che sono i commercialisti avvocati architetti ingegneri e altre varie categorie professionali e vi assicuro vi anticipo un dato è veramente discordante il dato perché i professionisti maschi guadagnano molto di più rispetto alle donne direi che anche nel mio settore continuo a essere così noi pecchiamo proprio anche di richiesta di autorevolezza nel venire perché venga retribuito in modo corretto il nostro lavoro sembra che il lavoro delle donne valga di meno ed è una cosa che mi irrita profondamente mi irrita profondamente sì vabbè insomma noi continuiamo ad andare avanti vedo che comunque seminando seminando qualcosa si raccoglie magari sempre meno di quello che dovrebbe essere però poi confido anche io sono ottimista simonetta confido che prima o poi tutto tornerà come deve essere insomma se uno ha davvero dato in una società ideale la commissione pari opportunità non avrebbe senso di esistere quindi andremo invece ha senso ha senso comunque di esistere ecco siamo in chiusura simonetta ti chiedo i tuoi prossimi impegni sei sempre girovaga perché anche per riuscire ad averti qui oggi sei a Roma sei di qua sei di là insomma adesso che cosa ti proteggi cerchiamo di portare tenere alta la bandiera della nostra regione insomma ecco come sempre e ovunque adesso ci sono parecchi impegni proprio stamattina ero col presidente del consiglio regionale del Veneto prossimamente realizzeremo un convegno sul donna e politica siccome in regione stanno seguendo lo statuto il nuovo statuto regionale e di conseguenza anche la legge elettorale regionale sarà tutta rivista noi vorremmo metterci del nostro in modo da indicare una via non ho fatto in tempo a chiederti pareri opinioni sui tuoi colleghi dalla Giulmini alla Carfagna insomma la Prestigiacomo ma forse preferisci così o se no io le ammiro tutte nel senso che comunque una donna che fa politica è degna di rispetto da qualunque parte stia perché è una donna che si impegna molto generalmente è molto faticoso molto faticoso è un lavoro vero e proprio si è consapevoli che qualcosa si trascura molto spesso è la vita privata però io le ammiro profondamente perché mettersi in gioco ogni giorno non è facile no ci vuole come si dice un bel pelo sullo stomaco perché dopo comunque di critiche di cattiveria di malignità anche gratuite sono stanca di sentire criticate le donne io non accetto insegnamenti da nessuno non accetto che le donne vengano criticate fondamentalmente perché donne perché prestiamo al fianco tante cose o a volte perché affascinanti addirittura una colpa sì è una colpa ma no io non no non ci siamo bene con questo no perentorio della Simonetta Tregnago noi chiudiamo la nostra intervista spero Simonetta che sia stato piacevole come lo è stato per me quindi ti aspetto quando vuoi assolutamente sempre il punto sulla situazione delle donne in Veneto ma non solo allora ti ringrazio in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni e le tue mille attività amici salutiamo e ringraziamo Simonetta Tregnago presidente della commissione regionale pari opportunità io vi ringrazio di essere stati qui davvero vi invito a seguirci sempre con affetto lo dico sempre perché lo state già facendo e di questo vi ringrazio dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 nel vostro salottino di chiacchiere e caffè e per i nottamboli c'è anche la replica notturna mi raccomando non mancate verso l'uno e un quarto di notte ciao a tutti grazie e alla prossima ciao a tutti